Le nuove persone suonano una gange per rivolgere, amici, piacere, povertà o desiderio. Le gange sono fatte di ragazzi che commettano dei crimini. Le nuove persone che sono parte della gange non praticano un sport o un'attività. Questi figli vivono in povertà con i loro bambini. Sono sorruttati da droghe e gange. I bambini sono spesso disinteressi perché sono depresi o sono addici droghe. Penso che il problema deve essere solito da tre metodi. Il figlio deve essere aiuto a diventare bravi, a opposare la pressione. È necessario creare istituzioni per convincere i bambini a praticare sport o attività, a spendere il tempo o a aiutare i bambini. I bambini hanno bisogno di fare i bambini capire che non è buono per loro un'attività. bambina. Ho spero che il futuro risolvere questo problema di bambina. Grazie.